Oggi compie l'anno una persona molto importante e molto speciale per me, un allenatore più importante nella mia carriera e nella mia vita, con cui ho avuto tanti grandi successi e sono diventato per quello che sono andato grazie anche ai suoi consigli, al suo lavoro svolto con lui durante il campionato 2004-2005 con il Lecce al mister Sdenek-Zeman. Mister, auguri per il tuo settantasesimo compleanno. Ti voglio augurare tante belle cose. In primis ti auguro grande successo con la nuova avventura con il Pescara, di portare il Pescara in Serie B. Di nuovo, augurarti salute, innanzitutto di stare bene di salute, come tu e la tua famiglia e tutti i tuoi più cari, gente, persone, casa tua e famiglia tua. Ti voglio bene, non vedo l'ora di venire a trovarti e ti auguro tante belle cose, mister. Ti voglio bene il tuo ragazzo, Valerio Bucino. Ti voglio bene, mister, non vedo l'ora di abbracciarti, di vederti e un giorno di poter lavorare insieme con te. Perché vorrei imparare, vorrei diventare, è difficile diventare Zeman perché sei un numero uno nel mondo, ma imparare da te per come si allena, come si fa e come lavorano con te i giocatori e cose importanti. Ti voglio bene, ti mando un grande abbraccio, un grande saluto e non vedo l'ora di vederti, mister. Stavi bene, ti auguro di nuovo, ti auguro di, in primis di stare bene in salute, che è la cosa più importante, come hai detto e suggerito tu prima quando ci siamo sentiti che è la cosa più importante, è salute. Ti voglio bene e ti mando un grande abbraccio. Ti amo, mister, dal tuo Valerio Bucino.